Stiamo veramente brancolando nel buio, per cui alla fine si useranno criteri personali su come gli gira i vari direttori piuttosto che presidenti di turno e sarà fatto tutto così. Il nostro compito, noi comunque continueremo a tartarsalli su questo coso. In ultimo ringrazio tutti quanti voi per essere venuti qua e in particolare ringrazio, forse sono andati via ma forse sono ancora qua, Renata, Marco e Luca che sarebbero mia moglie e i miei due figli. Grazie. Grazie. La premessa è che siamo nella solita situazione, abbiamo il consiglio comunale e i consigli di zona degli organi rappresentativi che in realtà hanno un potere decisionale assolutamente bassissimo, non si decide praticamente nulla, le poche opzioni, le poche votazioni vincolanti, nel mio caso c'è il bilancio, il piano di governo del territorio, il piano delle infrastrutture, in realtà sono già decise fuori dalla maggioranza che arriva in aula e vota compatto. Non c'è condivisione, non c'è una visione della documentazione, io ottengo le delibere e gli allegati o durante la commissione o il giorno prima al massimo, comunque non c'è mai un anticipo congruo, per esempio adesso ci sarà la delibera dei parcheggi che sono un milione e mezzo di pagine e ce l'hanno data anche questa una settimana prima che ovviamente non è un tempo sufficiente per analizzarlo. Passiamo al documento, questa è un'anteprima della mia parte come quella di tutti i consiglieri che troverete nel documento lunedì su internet, qui è il gruppo consigliare, la principale novità è stata nel cambio del personale assegnato dal comune al nostro gruppo consigliare, abbiamo sostituito Silvana che ha chiesto un trasferimento con Arturo che è lì dietro la videocamera che adesso... che da alcuni mesi è diventato ufficialmente lo staff del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Milano. Andiamo avanti, qui trovate alcune informazioni sull'ufficio come contattarlo, trovate il magnifico rapporto attività che viene tenuto costantemente aggiornato da alcuni attivisti, in specie ovviamente Eugenio che lo tiene aggiornatissimo. efficacia delle azioni, qui ho messo le mozioni che sono state approvate e non sono state realizzate dalla giunta che è già un controsenso, allora cosa abbiamo il consiglio comunale a fare se le cose che vengono approvate non vengono attuate? La risposta è semplice, piuttosto che fare la brutta figura di andare contro una proposta che ha senso la provano ma poi non la applicano, questa è la partecipazione. Quindi c'era stato l'emendamento per gli incentivi COSAP sulla sostituzione dei gruppi elettrogeni con soluzioni ecocompatibili nei mercati di via, anche questo non è mai stato seguito da una policy che la rendesse realtà. La mozione per la tutela e la protezione degli utenti deboli della strada, avevamo impegnato la giunta a mobilitarsi per fare degli stati generali per darsi una strategia a tutela degli utenti deboli, non è stato fatto. La mozione sulla rete ciclabile strategica è stata anche quella lì approvata e messa in un cassetto. La mozione sul contrasto criminalità organizzata ed evasione fiscale all'ortomercato, questa è una mozione che ho scritto e presentato a nome della commissione antimafia intera, anche questa con il voto favorevole della giunta poi non è mai stata realizzata. Infine la mozione City Logistics per un modello di trasporto integrato all'interno della città, quindi mezzi elettrici e mezzi a gas, a metano che portano in maniera ottimizzata per ridurre il tempo in cui stanno nella città e massimizzare ovviamente, minimizzare l'impatto sul traffico, anche questa qui approvata con la giunta, commissione, tutto fatto e non ha portato a nulla. Poi vi risparmio questi, sono gli atti mai discussi dal consiglio comunale e nell'ultima slide abbiamo gli atti sempre in questo secondo semestre del 2012 approvati e gli atti bocciati, in particolare l'emendamento carta zero e digitalizzazione della consulta delle università milanesi e la più importante è la modifica dell'articolo 79 dello statuto comunale. Il Movimento 5 Stelle da due anni a questa parte è stato l'unico che ha modificato lo statuto del comune di Milano per mettere l'acqua pubblica come valore fondamentale e diritto inalienabile, questa è una cosa stata importantissima proprio nella più grande modifica che si potesse fare, c'è lo statuto comunale, l'ufficio stampa del comune non ha neanche detto una virgola, mentre appena fa qualcosina l'assessore subito fa 30 secondi. Atti bocciati, mozione per l'eliminazione dei biglietti gratuiti ai consiglieri, quelli dello stadio come vi ricorderete ovviamente bocciata e la mozione zero cementi negli escali ferroviari, questa era fondamentale per attuare il referendum sul raddoppio del verde, bocciata. Comunque la strategia del consiglio comunale è non metterle neanche in votazione, cioè non dare neanche visibilità alle nostre proposte. Slide. Sempre nel documento trovate alcune statistiche e numeri sulle interrogazioni e le mozioni consigliari, le mozioni sono ovviamente molto in calo rispetto all'anno scorso perché abbiamo visto che non servono a nulla, perché non vengono attuate. Il diagramma torta mostra le interrogazioni con risposta oltre il termine di legge, la giunta ha 30 giorni per rispondere a un consigliere che lo sta controllando su quello che fa, il 63% delle nostre interrogazioni hanno avuto risposta oltre i 30 giorni legali. Questo anche per l'efficienza e la professionalità della giunta comunque è un dato molto significativo. Avanti, grazie e finiamo. Questa slide invece ha i numeri sulle delibere di iniziativa consigliare, su due sono state entrambe approvate nell'ultimo anno, cioè quella della cittadinanza onoraria Pino Maceri che era nell'anno scorso e quella sulla modifica dello statuto dell'acqua. Ora come presenteremo stasera ci sarà, come abbiamo presentato prima, ci sarà anche quella per la modifica dello statuto e l'introduzione del referendum deliberativo senza quorum che sarà però una delibere di iniziativa popolare, proprio per avere più peso dato che in consiglio ce le bocciano subito. E quindi oggi ci sono le 50 firme da raccogliere, uscendo passate, e poi nei prossimi mesi 5.000 per consegnarla. Infine il netto percepito, come per tutti i consiglieri trovate la specifica dello stipendio, i cedolini sono online e potete consultarli senza problemi. Ok, questo è finito, ora passiamo alle domande, ovviamente manca circa una mezz'ora, cerchiamo di raccoglierle magari di tre in tre e rispondere ovviamente tra me e i consiglieri per competenza. Grazie Ok, le prime tre Dicono che mancano ancora qualche firma sulle 50, quindi chi ha la residenza Milano e può passare fuori a firmare, poi sull'uscita lascia la firma, così lunedì la consegniamo. Prime tre domande. Volevo fare una domanda al consigliere della zona 2, non so come si chiama, dov'è? Dov'è? E' qua? Aspettiamo. Ok, magari facciamo un'altra domanda, aspettiamo che torni, non so se... Anche i consiglieri vanno in bagno, questa è una... Ok, perfetto. Grazie Io volevo fare una domanda sia a te, che comunque consiglieri di zona che sono interessati da questa cosa, riguardo alle case sfitte, come intendono gestire, se consiglieri di zona che in consiglio comunale, la questione delle case sfitte, nonostante ci siano persone che necessitano di queste case, è la bonifica dell'amianto presente in molte case. Grazie, allora, rispondo al volo sugli alloggi sfitti e poi passo la parola a un consigliere di zona che vuole sull'amianto. Per quanto riguarda gli alloggi sfitti, abbiamo fatto una proposta all'assessore in particolare circa un otto mesi fa, durante il periodo di Macao, se ricordate, in cui avevo proposto all'assessore di non rilasciare più concessioni edilizie a tutti i soggetti che hanno degli alloggi vuoti, come nel caso della torre Macao. Ci hanno confermato che era fattibile, ma niente, non hanno voluto attuarla. L'altra cosa è stata una commissione per la concessione di alloggi sfitti in deroga per l'Aller che è stata approvata negli ultimi mesi dalla Giunta, che praticamente darà priorità a determinate situazioni per l'assegnazione di alloggi. Poi ovviamente conosciamo Aller, conosciamo l'ambiente, ci sono... Aspetta, facciamo tre testa. Sì? Beh, riguardo alla vendita Aller sta vendendo diversi edifici, ovviamente noi siamo per tenerli e per usarli pubblicamente. Sì, sicuramente. Se ci dai la disponibilità ci lavoriamo assieme. Assunto. Assunto, ok. Ok. Vai. Allora, la domanda era al consigliere della zona 2. Chiedo scusa, ero fuori con dei cittadini. Tu prima avevi parlato di questi, credo si chiamano MAP, qualcosa del genere, sono praticamente delle richieste scritte che vengono fatte da associazioni e si chiedono soldi al consiglio di zona, giusto? Esatto. Queste richieste non presentano, non c'è un piano economico, non è un progetto nel vero senso della parola e soprattutto il consiglio di zona non ha dei criteri certi e meritocratici per assegnare questi soldi. O voglio sapere, cosa avete fatto voi affinché venissero cambiati questi criteri e qual è soprattutto l'organismo che decide come vengono distribuiti questi soldi attraverso criteri certi e punteggi dati a chi veramente vuole fare ciò che indica nei progetti? Per rispondere a questa domanda dobbiamo rispondere più consiglieri insieme perché si parla della divisione del bilancio, l'assegnazione dei fondi dal bilancio alle singole commissioni, quindi magari Manuel Filini o Max Toscano che hanno la presenza della commissione bilancio in zona 7 e in zona 5 sicuramente possono dare una risposta più completa. Per quanto riguarda la dinamica avviene questo, l'associazione arriva al settore della zona e presenta un documento dove dice che vuole, faccio un'ipotesi qualunque, vuole organizzare una proiezione di film per bambini all'interno di un centro culturale, il regolamento prevede che la proposta dell'associazione sia fruibile a tutti i cittadini della zona indistintamente, questo è l'unico criterio che c'è in questo momento, che c'era fino a mercoledì sera. Noi come zona 2 abbiamo scelto, in maniera condivisa con tutti gli attivisti che partecipano a mercoledì sera alle nostre riunioni, di votare sempre contrari a qualunque richiesta che venga fatta, motivando questa cosa dopo anche un confronto con gli altri consiglieri di Milano con cui ci troviamo una volta al mese per confrontarci su quello che succede in ogni zona, abbiamo deciso di intraprendere questa linea spiegando che noi voteremo favorevolmente alle iniziative solo nel momento in cui sarà la zona, la commissione di competenza, a proporre un progetto, a preparare un bando pubblico a cui le associazioni potranno partecipare, a quel punto noi saremo favorevoli a questo tipo di metodologia. Lunedì, mercoledì scorso, all'ultimo consiglio di zona è avvenuta questa cosa, in commissione giovedì la totalità dei consiglieri ha bocciato tutte le proposte fatte come mappe e contributi e mercoledì hanno preparato una delibera per un bando pubblico per organizzare un concerto rock nel parco dell'Affitato della Martesana, da giugno ad agosto, 4 date, 4 serate, con 3 gruppi ogni data e tutti i criteri del bando hanno spiegato esattamente quello che volevano. Abbiamo cercato di emendare questo loro bando in zona perché hanno messo delle voci che secondo noi erano inutili mettere, provo a farlo velocemente, c'era la voce palco per esempio, abbiamo chiesto che non venisse contemplato il palco perché sappiamo che il comune ha dei palchi a disposizione, quindi chiedessero quelli al comune, così non costano, non è che noi diamo i soldi a associazione che dei soldi quando ce li abbiamo in casa a noi, l'hanno bocciata. Perché? Perché non sappiamo se esiste un ufficio che assegna il palco al comune di Milano e quindi hanno bocciato questa... hanno chiesto al direttore di settore che era presente durante la riunione se esiste con la conoscenza di un ufficio che noleggiasse il palco a titolo gratuito, gli ha risposto non lo so. Queste sono le persone con cui noi ci andiamo a rapportare. Siamo riusciti ad arrivare a questo perché è un anno e mezzo che noi votiamo sempre contrario ai mappi e ai contributi e vi posso garantire che non è bello votare no sempre ai mappi e ai contributi perché si va a volte a votare anche contro iniziative che sono oggettivamente valide e interessanti. Una su tutte che ha scatenato un caso mediatico trascendentale è il giorno della memoria. Noi abbiamo votato completamente no a qualunque iniziativa che fosse volta al giorno della memoria perché non volevamo dare soldi a associazioni che facevano quel giorno della memoria e basta. Quindi la nostra proposta era di creare un percorso culturale all'interno delle scuole tutto l'anno affinché si ricordi tutto l'anno quello schifo che è avvenuto nel passato. Non solamente un giorno perché è il 27 gennaio e perché ti diamo 4.000 euro vai a mettere i mazzi di fiori al binario 21. Non è così che noi pensiamo che funzioni questa cosa. È possibile invece a livello di Consiglio Comunale creare un meccanismo attraverso il quale solo questi bandi con dei criteri certi possono essere come possono ricevere dei soldi e le associazioni attraverso questi bandi e non attraverso i map come si chiamano quindi solamente presentando delle richieste generiche. Sì sicuramente. Ti chiedo però di poter dare la parola ad altri perché sennò il tempo è pochissimo. Io volevo far rispondere a Manuel Omax rispetto alla commissione bilancio per spiegare come vengono suddivisi i soldi per le commissioni e poi magari due risposte sull'amianto velocissimo. Riguardo ai criteri vengono decisi dall'ufficio di presidenza che è l'organo del Consiglio che è composto dai vari presidenti delle commissioni permanenti. Quindi io che sono presidente della commissione bilancio non ne faccio parte perché è una commissione temporanea e quindi non posso far parte di questo Consiglio e non prendo nessuna decisione insieme a loro. Poi dicevi l'altra questione. La divisione dei budget delle commissioni è proposta dall'ufficio di presidenza ma poi viene comunque passata in Consiglio quindi alla fine è il Consiglio che decide come dividere i budget delle commissioni almeno in zona 7. Poi può capitare che negli altri consigli capiti in modo diverso. Rispetto all'amianto volevo risponerti sull'amianto. In tutta Milano c'è amianto come ricordava prima Max Max ha portato avanti delle battaglie anzi guarda Max preferirei che raccontassi tu dell'amianto che sei molto più competente rispetto all'argomento. Sulla mianto in generale come tema generico stiamo cercando di portare avanti questa mappatura anche attraverso strumenti online quindi è stata anche preparata una mappa online anche da consigliere La Terza in particolare dove tutti i cittadini possono segnalare dei casi cioè i cittadini devono aiutare le istituzioni e consigliere di zona eccetera per segnalare sul proprio territorio nei quartieri dove abitano delle casistiche di questo tipo quindi utilizzare anche internet perché oggi ci sono per l'amianto ma anche come decoro urbano eccetera delle situazioni che possono essere segnalate utilizzando appunto la rete e più facilmente individuate occorre quindi che i cittadini facciano anche la loro parte non è che possiamo sempre aspettare che i consiglieri si attivino perché non sarebbe sufficiente poi si accumulano degradi eccetera quindi questo vale anche per i rifiuti o per altre piccole discariche che possiamo notare nelle periferie che purtroppo molto spesso presentano degrado sull'amianto tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha fatto un'ottima conferenza informativa in Sala Lessi organizzata e promossa da Mattia con ospiti importanti come il professor Rugazio e altri esperti